pronto vuoi che devo ascoltare una tua canzone guarda ti dico che l'ultima volta non è che è andata proprio bene no christian bello dimmi tutto ma davvero si dai dai fammela sentire lo sai come fa piacere hai qualcosa di speciale molto attiva vai 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 alfa alfa alfabeto au 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 che stai facendo Scusa che stai provando a fare con questa cosa? Scusa signo, senza che bella paghi, dimmi tu una cosa a me. Non è che per esempio lontanamente, proprio lontanamente, non è che se appartiene a Christian Michel, ma dico allora lontano un cugino, un fratello lontano dello zio e del nonno, perché veramente non si capisce un cazzo. Scusa signo, senza che bella paghi, dimmi tu una cosa a me. Scusa signo, senza che bella paghi. Grazie. Grazie.